Per ognuna delle sei fasi delle votazioni ci sarà un punteggio conseguibile da 1 a 5, quindi col massimo dei voti si arriva a 30 trentesimi. La prima prova sarà lo stacco da terra col bilanciere. In questa fase abbiamo deciso di determinare il voto finale, quindi da 1 a 5 a prova superata, in funzione del carico utilizzato. Per gli uomini si partirà col bilanciere più bumper con un totale di 35 kg, a prova superata di 10 ripetizioni per ogni prova, si raggiungerà il punteggio di 1. Utilizzando 45 kg l'uomo raggiungerà il punteggio di 2, 55 kg 3, 65 kg 4, 75 kg 5. Quindi per prendere il massimo dei voti l'uomo dovrà ripetere e eseguire 10 ripetizioni di stacchi da terra tecnicamente impeccabili con 75 kg. Per le ragazze i carichi partiranno da 20 con step di 5, quindi 20 kg 1, 25 kg prova superata 2, 30 kg 3, 35 kg 4, 40 kg 5. La seconda prova d'esame sarà il goblet squat. La seconda prova d'esame sarà il goblet squat. Quindi lo squat eseguito con il kettlebell in questa posizione, in front rack. In questo esercizio il carico è imposto e fisso. Per l'uomo sarà kettlebell da 20 kg, per la donna sarà kettlebell da 12 kg. Le ripetizioni da eseguire saranno sempre 10 e il docente di turno dovrà valutare l'esecuzione tecnica dell'esercizio, quindi la profondità del gesto piuttosto quanto l'esplosività e il mantenimento delle curve. La terza prova dell'esame sarà lo swing eseguito con un kettlebell tenuto due mani, anche in questo caso a carico fisso imposto, per l'uomo 20 kg, per la donna 12 kg. Dieci ripetizioni che verranno contate dal docente e valuterà l'esecuzione tecnica. Anche in questo caso sempre la gamma di voti andrà da 1 a 5. quarta prova d'esame, push press eseguito col bilanciere. Per l'uomo il totale saranno 40 kg, compreso il bilanciere, per le donne 20 kg. In questo caso verranno richieste solo 5 ripetizioni. Anche in questa situazione, in funzione dell'esplosività del gesto e del mantenimento della tecnica corretta per tutte le 5 ripetizioni, si potrà avere una gamma di voti da 1 a 5. L'ultima prova d'esame saranno i push up a corpo libero, rigorosamente per tutti con la partenza tra gomiti estesi, ginocchia estese, non con le ginocchia appoggiate a terra. L'uomo dovrà eseguirne 15 in corretta postura. Per le ragazze la prova sarà costituita con il massimo dei voti, sarà raggiunta con i nostri dei voti, riuscendo ad eseguire 8 ripetizioni. Quindi le 15 ripetizioni e le 8 ripetizioni per i due sessi diversi saranno in funzione del raggiungimento del punteggio massimo. L'ultima voce, come dicevo prima, mobilità globale, sarà un voto. che cercherà di comprendere sia la performance sia la mobilità e quindi la capacità di mantenere tecnicamente corretta l'esecuzione di tutti i gesti che sono stati spiegati nel weekend. Esiste anche la possibilità che una prova o più non vengano valutate sufficienti nel momento dell'esecuzione dell'esame. Non succede nulla. Il docente di turno metterà in sospeso la valutazione finale, quindi si raggiungerà un voto parziale in funzione degli esercizi e delle prove che saranno ritenute valide. Per le prove che eventualmente non saranno state ritenute idonee nel momento dell'esecuzione dell'esame verrà richiesto un video. Consiglio sempre di lasciar passare almeno 20-30 giorni dalla fine dell'esame, entro 60 giorni dalla fine dell'esame, da inviare al docente che poi lo valuterà e insieme si deciderà se appunto l'esecuzione del video sarà ritenuta corretta piuttosto che la necessità di guiare un altro. Nei video è molto importante che sia specificato o sia facilmente individuabile il carico utilizzato. Grazie ragazzi e vi aspetto ai prossimi nostri corsi di formazione.